Io solo posso conoscere le mie inquietudini e il male che mi procuro, per finire tele che non soddisfano nemmeno me stesso e che piacciono a così poca gente. Sono assolutamente scoraggiato, non vedendo, non sperando alcun futuro. È meglio che mi arrenda l'evidenza, non posso sperare di guadagnare con la mia pittura quanto basta per vivere. No, non ho rubato il tuo diario segreto, non ti sto leggendo nella mente e per quanto io abbia pensato queste esatte parole un milione di volte da quando ho deciso di diventare una pittrice, non sono neanche parole mie. Queste parole sono state scritte nel 1879, non da un dilettante, non da un principiante, ma da un artista avviato, riconosciuto. Sono state scritte da Claude Monet a Veteuil e lui aveva già presentato le sue opere al Salon e stava inseguendo un sogno, che era il sogno dello stile, di quello che avrebbe poi potuto definire la sua pittura. Lui non lo sapeva, ma non avrebbe soltanto trovato il suo stile di lì a poco, ne avrebbe cambiato completamente per sempre la storia dell'arte e la storia del mondo. Oggi ti voglio raccontare di quella volta che, per puro caso, ho conosciuto Claude Monet durante una sua esposizione. Non il Monet artista e grande maestro, ma il Monet pittore, l'amico che ce l'ha fatta. Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vi racconto una storia, una storia di dieci anni fa, quando ero una studentessa dell'Accademia e c'è stato un momento in cui ho seriamente pensato di mollare. Lo so che è strano, infatti non era una scelta dettata dal fatto che non volessi fare più la pittrice o che non volessi più continuare nel mondo dell'arte. Semplicemente avevo iniziato il biennio specialistico con tantissimo entusiasmo, ingannata un po' dal piano di studi, ma poi mentre lo frequentavo mi rendevo conto che era troppo simile al triennio e che non mi stava dando niente. Per fortuna non sono mai stata un tipo che perde tempo o, diciamo, ci gira intorno. Quando c'è un problema vado subito alla soluzione. Per me le soluzioni erano due. O mi ritiravo o cambiavo qualcosa. E quindi ho deciso di fare la domanda per il progetto Erasmus. L'Erasmus è un concorso che ti permette il gemellaggio con un'altra università di un altro paese europeo. E in quel caso io desideravo tantissimo avere la possibilità di studiare in Francia. Faccio il concorso, assurdamente non solo lo passo, ma arrivo altissimo, arrivo secondo in graduatoria e quindi ho la possibilità effettiva di scegliere qualunque destinazione. E quindi scelgo di partire e mi trasferisco ad Amiens. Amiens è un piccolo paese nel nord della Francia e io ero arrivata un po' prima in modo da poter fare dei giri intorno, nei paesini vicini. C'è stato questo giorno in cui, per puro caso, non mi ricordo se fossimo a Rouen o in qualche altro posto, mi sono ritrovata, ci siamo ritrovati per puro caso in un museo e in questo museo c'era un'esposizione temporanea di opere giovanili di Monet. Questa cosa per me è stata una vera e propria epifania, perché io conoscevo Monet, ovviamente. Se per voi lo volete sapere, il primo approccio, la prima volta che ho visto qualcosa di Monet era il 1997 e a mia sorella regalarono Barbie Claude Monet, che era una bambola della Mattel da collezione, che se trovo ve la faccio vedere. E con questo vestito, no, che rappresentava le ninfè di Monet, io ero rimasta tipo incantata. La primissima volta, invece, che l'avevo vista dal vivo era il quinto anno del liceo ed era la gita, quella lunga, no? Eravamo andati a Parigi, quindi al Museo d'Orsay. Io mi ricordo che ero tornata da quella gita con la valigia piena di cartoline, tutte dei musei, e tantissime di quelle erano cartoline di Monet, tra cui il famosissimo ponte giapponese sul lago delle ninfè a Giverny. E io avevo queste stampe che coprivano le pareti di casa della mia stanza e avevo questo quadretto con questa piccola cornice proprio sopra la scrivania e ci è rimasta per secoli. E la tenevo lì come santino perché di lì a pochi mesi mi si era iscritta in accademia. Ma anche studiandolo, no, durante le varie lezioni di storia dell'arte, sia a scuola che in accademia, io pensavo di conoscere Monet a me la dito. Quando mi sono trovata davanti a questa esposizione, ragazzi, è stato come se soltanto perché avevo dipinto per tanto tempo, soltanto perché... È sempre il discorso che facevo quella volta, come quando Peter Pan nell'Isola Sperduta, Inuk Capitanuncino, dei bambini sperduti, finalmente vede la tavola imbandita e inizia a giocare con loro. È stato così, finalmente avevo gli occhi aperti e riuscivo a vedere in Monet, nei quadri di Monet, l'incertezza, i tentativi, le ispirazioni dei suoi contemporanei, dei suoi amici, quella pennellata che somigliava tanto a quell'altra e tanta frustrazione. E' come se in quel momento io mi fossi resa conto che Monet non era semplicemente il grande Claude Monet, ma era veramente un collega che dopo aver sbattuto la testa tantissime volte in quello che faceva, alla fine ce l'ha fatta. E' conscia di quanto questa cosa abbia cambiato la mia visione della storia dell'arte, ma anche proprio del mestiere di pittore, voglio raccontarvi chi era realmente Claude Monet. E mi piacerebbe che poi faceste questa cosa, questo gioco, di fare finta di dimenticare tutto quello che sapete su Monet, di essere un libro bianco in questo momento, di essere tipo, come si chiamavano? Calin, Grignotte e Benjamin? Tutti seduti ad ascoltare Papa Castoro che gli racconta questa storia. Perché quando uno guarda una foto di Claude Monet con questa barba lunga, questo aspetto un po' austero, uno lo vede molto lontano da sé. Ma in realtà Claude Monet era letteralmente uno di noi sin dall'infanzia. E gli anni 40 dell'Ottocento in cui lui nasce e poi inizia a crescere, dovete contestualizzarli e capire che in realtà vivere negli anni 40 dell'Ottocento voleva dire grande importanza a tutto ciò che è affari e carriera di quel tipo e disgusto totale per quella che era l'arte. Vi ricordo che già le accademie stanno anche perdendo valore e che quindi in questo contesto nasce il piccolo Claude. Sì, lui è nato a Parigi ma considerate che tipo già a cinque anni per motivi di lavoro del padre si trasferisce a Le Havre che era una città di mare. E la sua infanzia non ve la dovete immaginare come l'infanzia perfetta del signorotto di chissà che cosa in realtà Claude Monet era un bambino terribile era un bambino terribile ovviamente per un genitore ma in realtà era un bambino pieno di vita non gliene fregava niente delle regole non era proprio capace di capire le regole ed era la grande disperazione dei suoi genitori. La scuola in particolare lui la vedeva come una prigione lui dedicava allo studio alla scuola per sua stessa ammissione tipo quattro ore al giorno per il resto lui se ne stava al mare lui se ne stava a tuffarsi lui se ne stava a fare le sue passeggiate tra gli scogli non gliene fregava niente di imparare e la sua preparazione di base infatti era anche abbastanza scarsa. Io immagino i genitori di Monet tipo dei personaggi dei cartoni animati distrutti dalla vita con la perenne gocciolina che gli cola ogni volta che il loro figlio fa qualcosa di strano. e di base l'unica cosa veramente importante della carriera scolastica di Monet erano le caricature che lui faceva dei suoi insegnanti. E perché vi dico questo? Che tra l'altro anche qua per la serie sempre Monet uno di noi questa cosa mi ha fatto ridere quando la lessi la prima volta perché mi ricordava troppo me al liceo e secondo me anche voi eravate quelli lì che durante le lezioni facevano le caricature di tutti i professori io mi ricordo ancora il mezzo infarto che mi è venuto quella volta che il mio professore di matematica per fare un esempio ha preso il mio libro se lui avesse aperto la pagina sbagliata avrebbe trovato vignette su vignette con lui che fa cose che faceva cose terribili ma a differenza mia Monet di queste caricature con queste caricature fece un vero e proprio business aveva la mente imprenditoriale aveva capito che queste caricature avevano del potenziale perché le richiedevano tutti arrivò a un punto che queste caricature giravano così tanto che la gente lo riconosceva era diventato un personaggio e il corniciaio di Le Havre tipo l'unico corniciaio che c'era arrivò addirittura a venderle nel suo negozio la cosa buffa è che sostanzialmente Monet non era neanche contento di questa cosa perché le sue caricature si ritrovavano accanto ai dipinti degli accademici e soprattutto ai dipinti di un certo Boudon che lui odiava disprezzava schifava ma non vi faccio vedere però i dipinti di Boudon abbiate pazienza ci sarà il momento giusto per farvi capire che cosa disprezzava Monet in quegli anni e quando dico disprezzava disprezzava realmente cioè anche quando il corniciaio gli diceva Claude ma tu sei bravo a disegnare cioè parla con Boudon che è questo artista diplomato all'accademia d'arte eccetera cioè ti potrebbe aiutare lui si rifiutava si rifiutava categoricamente di conoscerlo e la cosa triste è che quando il destino bolle che si trovavano si trovavano Claude e Boudon nella stessa stanza questo Boudon era un dolcetto era dolcissimo era un fan delle caricature di Monet ed era super contento di potergli parlare io immagino la poker face di Monet davanti a questo povero tizio tutto carino e gentile che in teoria era lui il pittore in quegli anni e lui che lo schifava e quello che gli diceva ah no ma sai ma sei molto bravo secondo me non ti dovresti fermare alle caricature dovresti fare altro e Monet è tipo addirittura Boudon si offrì di fargli da maestro e lo invitava a dipingere in campagna un sacco di volte ah ma vieni da me dipingiamo insieme e lui niente lui odiava il pensiero di dipingere in campagna non faccio a ridere così che Monet Claude Monet odiasse dipingere in campagna e la natura e non capiva il senso di quelli che dipingevano le marine lui li riteneva proprio pittori scarsi da quattro soldi perché le marine erano di moda perché lui voleva andare contro corrente era il classico adolescente che pensa di saperne più di quanti in effetti non ne sappia mosso dal suo genio e dal suo talento ma il tempo passa e alla fine anche le scuse finiscono cioè pur di non dipingere con questo povero Boudin praticamente aveva adotto qualunque tipo di scusa esistente al mondo e adesso le aveva esaurite quindi arriva quel giorno in cui il destino lo costrinse di nuovo a fare qualcosa che non voleva e dipinse in campagna con Boudin la cosa buffa è che Boudin con gentilezza lo iniziò alla tecnica pittorica cioè dopo che lui l'aveva schifato tantissimo lui lo iniziò alla tecnica pittorica e alla pittura naturalistica e quello è stata la prima volta che Monet ha incontrato se stesso perché di quegli incontri di quelle sessioni di pittura con Boudin Monet dirà che fu proprio come se in quel momento i suoi occhi si fossero aperti come se finalmente riuscisse a vedere per la prima volta la natura e potesse amarla se poi uno va a vedere la carriera di Claude Monet si rende conto di quanto questa cosa sia assurda e di quanto fosse assurdo non solo che un giovane Monet in qualche modo odiasse la pittura naturalistica ma odiasse anche la pittura di Boudin perché adesso è giunto il momento di farvi vedere come dipingeva Boudin vi ricorda forse qualcuno sarebbe bello veramente capire da un punto di vista psicologico che cosa potesse spingere un giovane Monet ad avere così tanta diffidenza nei confronti di questo pittore e di questi soggetti che poi sono le sue pennellate e i suoi soggetti secondo me è molto interessante perché è proprio come se lui si fosse incontrato per la prima volta e fosse rimasto talmente tanto turbato da questa cosa che lì per lei la rifiutava secondo me è interessante ovviamente c'era anche un'altra cosa da considerare in tutto questo contesto in cui lui faceva amicizie con Boudin eccetera eccetera che si ok gioia tu stai andando tutti i giorni a questo pittore ma tu hai parlato male di questa persona per tutta la tua tutta la tua esistenza non hai fatto altro che disprezzarlo perché voi immaginatevelo questo giovane Claude che in sostanza era un adolescente come tutti gli altri e odiava Boudin e quindi praticamente a casa sua ne parlava malissimo e di punto in bianco usciva sempre con questa persona quindi i suoi genitori erano tipo sempre lì in apprezzione in ansia a chiedersi questo qua che sta facendo ma con chi esce mio figlio cioè poveri genito di limone e di tutta risposta lui non solo gli dice che aveva cambiato idea su Boudin ma gli dice che ha deciso grazie a questo suo nuovo amico che vuole fare il pittore nella sua vita e non solo che si vuole trasferire addirittura a Parigi per imparare a dipingere e i suoi genitori come ogni buon genitore gli tagliano i viveri Mamone grazie a Dio era un tipo testardo mettiamola così era tipo il colibri lui aveva messo da parte con le sue caricature un gruzzoletto e quindi di conseguenza essendo molto giovane pensava che avendo che so tipo 2000 euro nostri avrebbe potuto fare qualunque cosa ci sarebbe campato una vita con questi 2000 euro e come il colibri che ha delle ali che in teoria non sono progettate per volare ma vola lo stesso Claude Monet con il suo gruzzoletto accumulato grazie alle sue caricature parte e va a Parigi e va a Parigi portando con sé una lettera di raccomandazione ottenuta grazie a Boudin i casi della vita e subito entra in contatto con pittori veri come Charles Munginon Costant Royon che per fortuna non era italiano e Armand Gautier e loro gli danno dei consigli molto utili soltanto che molti di questi consigli a Claude rimangono qua perché loro avevano una visione molto antica rispetto alla sua infatti quando per esempio Troion gli propone di andare in atelier presso Couture il grande pittore Couture lui la prende come un affronte personale tipo perde la stima che aveva nei confronti di Troion perché oh mio Dio ma tu mi vuoi mandare da questo vecchio cioè che fa queste cose vecchie lui in realtà mi fa molto ridere perché per come appunto era questo personaggio c'è il classico ragazzino rompiballe però se vogliamo in realtà non è che lui era semplicemente una testa calda era una testa calda però non era soltanto una testa calda lui come i grandi artisti aveva percepito l'anima del mondo lui sapeva che il mondo stava andando in quella direzione lui non voleva trascinare la coda del vecchio mondo dell'arte lui voleva tagliarla di netto lui voleva andare oltre lui voleva trovare soluzioni nuove sapeva che l'arte stava andando verso una direzione ma ancora non la conosceva ancora non sapeva neanche che la direzione era lui e mentre scappa da Troion si imbatte in Pissarro allora voi dovete partire dal presupposto che mano a mano che racconteremo la storia di Monet che capelli mano a mano che racconteremo la storia di Monet sarà tipo vedere Midnight in Paris cioè lui così incontrerà sempre personaggi che hanno fatto la storia così perché era proprio il suo ambiente perché in quel momento il mondo era tutto là e Pissarro in particolare era un po' come Monet questi pittori più o meno avevano tutti la stessa storia lui veniva però dalle Indie Occidentali e anche lui era ostacolato dal padre ma voleva comunque fare il pittore nel momento in cui conosce Monet però non è ancora il pisarro rivoluzionario ancora è in una fase meno matura ancora segue la linea di Corot ed è comunque nonostante la bravura Monet non lo prende come punto di riferimento lui continua a prendere come riferimento il tanto amatoriato Boudin e sa che quello è il punto di partenza per quello che vuole raggiungere soltanto che non sa dove andare anche lui ragazzi a un certo punto della sua vita ancora non sapeva dove andare arrivano i suoi vent'anni e voi direte ma aspetta ma se cose le ha fatte che ancora aveva 19 anni ma a nostra discolpa posso dire che erano altri tempi e in sostanza cosa succedeva a vent'anni in quel periodo c'era la coscrizione obbligatoria la leva militare e qua tornano i genitori di Monet perché loro hanno pensato vai noi ti lasciamo al verde e tu prima o poi sarei costretto a tornare e questo non tornava allora praticamente la loro ultima spiaggia era il servizio militare perché le opzioni erano due o torni a casa supplicandoci di non farti partire e intraprendi la carriera d'affari o se anche stavolta rompi le balle e continui in questa cosa che vuoi fare l'artista noi ti facciamo partire non faremo niente per te ma Monet essendo Monet si era preparato a questa cosa lui ne aveva parlato aveva sentito opinioni su questo fatto di partire questa coscrizione obbligatoria eccetera eccetera e aveva incontrato persone che avevano una certa ansia all'idea di partire ce la vedevano come una cosa pesantissima e non ne volevano sapere ma d'altro canto aveva conosciuto uno chassir da freak che era appunto una persona che aveva intrapreso la carriera militare che non faceva altro che parlare con grande entusiasmo della vita militare tanto da trasmettergli proprio la sua passione per l'avventura e con la sua faccia di culo Monet pensò bene una volta che i suoi genitori tutti impentiti cioè già i poverini fanno anche tederezza perché loro ci avevano creduto veramente che finalmente era la volta che si sarebbero ripresi la sorta di suo figlio di loro figlio lui con tanto di faccia proprio di scoglio gli dice sai che penso proprio non ci sia niente di più entusiasmante di cavalcare per ore sotto il sole sentire il rumore della polvere da sparo delle delle sciabole e di dormire nel deserto di notte mio caro papà mia cara mamma e grazie alla sua performance viene spedito in algeria e in algeria ci passa due anni e addirittura questi due anni di servizio militare per Monet sono stupendi cioè per lui sono una grande rivelazione lui è entusiasta di tutto quello che vede perché è completamente immerso in un ambiente che è del tutto nuovo e per una mente artistica questo è fantastico e anche se in quella fase lui si limita a riprodurre ciò che vede e a immagazzinare dentro sé ciò che vede quella sarà la seconda volta nella sua vita in cui Monet si imbatterà in se stesso come era successo con Boudin con la differenza che in quel momento nasceva inconsapevolmente l'impressionismo la sua smania per l'impressione per riuscire a rendere pittoricamente un'impressione nelle luci e nei colori di quel posto il caso volle però che dopo solo due anni passati in Algeria Monet si ammalasse gravemente nonostante il suo entusiasmo nonostante la sua faccia tosta il suo corpo cedeva e si prese una febbre e una malattia talmente forti che dovette essere rispedito a casa e il dottore disse chiaramente a suo padre che potenzialmente se lui fosse tornato in Africa sarebbe potuto morire senza proprio nasconderglilo perché le sue condizioni erano molto gravi durante i sei mesi di congedo ovviamente nonostante fosse bloccato a letto nonostante fosse moribondo Monet dipinge con una passione e disegna con una foga talmente forti che suo padre a un certo punto capitola cioè vede sto ragazzo mezzo morto che nonostante tutto non riesce a mollare il pennello e non riesce a smettere di disegnare e la capisce che se non vuole perderlo sia rispedendolo in Africa sia proprio come affetto perché il loro legame ovviamente continuava a spezzarsi ogni volta che loro lo abbandonavano perché di base non faceva quello che loro desideravano che lui facesse decide di riscattarlo e gli dice ok l'ho capito ho capito che tu vuoi fare il pittore e che lo vuoi fare davvero e ti permetterò di farlo di studiare ti darò io i soldi per farlo a patto che ti impegni a patto che lo fai seriamente e con seriamente vuol dire che tu adesso te ne vai in un atelier da un bravo artista affermato e vai a lezione da lui e lo so che voi state già ridendo perché in sostanza sapete tutti noi sappiamo cosa deve essere passato per la testa di Monet tipo tre secondi prima ragazzo ho deciso di darti i soldi di appoggiarti nella tua scelta di diventare un pittore tre secondi dopo sì però ti devi andare in un atelier da un artista accademico a studiare quindi nonostante questa decisione del padre lo soddisfacesse a metà Monet per la prima volta nella sua vita forse il servizio militare a qualcosa in fondo gli era servito decide di capitolare perché nonostante rabbrividisse al pensiero di andare in atelier da un pittore della vecchia scuola era felice che suo padre lo appoggiasse quindi decide che dopo tutto vale la pena di non deludere i suoi genitori quantomeno non subito e parte alla volta di Parigi si ritrova da Toulmuche un pittore importante di quel tempo e lo stesso dopo aver visto dei suoi schizzi preparatori ed essere rimasto impressionato alla bravura di questo giovane lo rimanda da Monsieur Gleyer che aveva un tipo di pittura così e noi sappiamo quanto Monet amasse questo tipo di pittura ma nonostante tutto veramente ragazzi dobbiamo essere fieri di Claude perché lui si reca da questo pittore fa la prima settimana serissimamente cioè lui proprio si butta a bomba in questa cosa le lezioni sono di nudo dal vero quindi lui si mette là e disegna il suo nudo ma lo fa proprio con fuoco con passione cioè vuole far vedere ai suoi genitori che ce la può fare a fare una cosa che gli viene detto di fare ma una settimana comunque è abbastanza lunga arriva il giorno in cui finalmente deve corregger il maestro deve correggere il suo disegno e questo Monsieur Gray guarda questo il suo lavoro e gli dice bravo ragazzo cioè tu sei bravo Claude però cioè quest'uomo è un uomo tozzo il nostro modello è un uomo tozzo e tu l'hai disegnato tozzo cioè quest'uomo ha dei piedi enormi e tu gli hai fatto i piedi enormi come hai usato e inizi a fargli questo discorso del tipo ah ma quando uno si approccia alla figura deve guardare gli antichi non è che tu devi rappresentare quello che vedi lo stile lo stile è tutto la cambiare cambiare non bisogna essere così realistici bisogna che il che il disegno funzioni che sia bello e che gli ha detto Claude in quel momento si trattiene ma dentro di sé si sta trasformando in Super Saiyan di terzo livello e però forse anche grazie al servizio militare decide di giocare ad astuzia quindi fa questo ragionamento se se ne fosse andato in quel momento seguendo il suo istinto primario di sopravvivenza i suoi genitori l'avrebbero lo so disconosciuto totalmente quindi pensa vabbè vengo ancora qua per un po' faccio prendo la presenza faccio uno schizzo veloce e me ne vado e questo fa per alcune settimane anche perché dopo tutto lui guarda al lato positivo infatti nel corso di Monsieur Gleyer lui ha fatto un sacco di amicizie amicizie ragazzi che sempre per la serie Midnight in Paris sono nomi a caso tipo Auguste Renoir immagino che voi non abbiate mai sentito dire Alfred Sisley e in questo corso incontra anche il suo più grande amico Jean-Frederic Basile e qua apriamo una piccola parentesi su Basile perché Basile è stato un pittore tra gli impressionisti che probabilmente poteva essere il più grande pittore impressionista della storia e non sto esagerando la cosa bella di questo ragazzo era che lui aveva incontrato l'arte per puro caso era stata una magia lui era andato a Parigi per studiare medicina ma quando era entrato all'ouvre amante già comunque del disegno sin da piccolo aveva cambiato completamente strada aveva capito di voler diventare un pittore era stato proprio un amore a prima vista in quel momento lui aveva saputo chi era e la cosa bella di questi artisti di questo artista in particolare che era Basile era la sua umiltà perché lui non era minimamente consapevole e non se ne vantava minimamente l'unica cosa di cui si vantava a suo dire era che almeno cioè se proprio si doveva attribuire un merito era che non copiava nessuno e infatti oggi vedere i suoi dipinti cioè sembrano contemporanei oggi ragazzi sono di una bellezza straordinaria il dono è la maledizione di certi artisti che sono anche persone di grande valore sociale e Basile era uno di questi quindi quando ci fu la guerra franco-prussiana lui non si tirò indietro e si arruolò e per quanto i suoi amici carissimi Monet, Renoir Sisley avessero tentato in tutti i modi di persuaderlo a partire dicendo gli amo tu sei pazzo ma ti stai andando a suicidare di qua e di là lui riteneva fosse giusto farlo partirà combatterà con onore e morirà con onore nel novembre del 1870 con due colpi di pallottola e Monet e Renoir ricorderanno sempre questo loro grandissimo amico che loro chiamavano il cavaliere puro ok il cavaliere puro perché era di animo gentile e buono Basile si spegne a appena 29 anni e di lui Monet dirà che se solo lui fosse vissuto più a lungo il mondo avrebbe parlato di Basile e della sua pittura ed è bello pensare che in realtà ancora oggi ne parliamo lo stesso tra i tanti personaggi che lui incontrerà c'è anche John Kings che vi scrivo qui e questo pittore in realtà lo conosce per puro caso un giorno mentre in aperta campagna si imbatte in delle mucche e il tizio e il proprietario di queste mucche tutto scherzando gli racconta che è un appassionato di pittura gli dice ah ma tu sei un pittore ma sai che qua c'è John Kings quindi se lo vuoi conoscere io te lo posso presentare e lui dice ah ma sì ok e poi alla fine questo gli presenta sul serio e diventano grandi amici la cosa assurda è che nonostante fino a quel momento la pittura di Monet nonostante tutte le influenze di tutte queste grandi personalità artistiche nella sua vita continuava cioè era era influenzata ancora dalla pittura di Boudin di John King Monet dirà che questo lui è il suo vero maestro anfame tre anni intensi di studio dopo che lo portano nel 65 al Salon per la prima volta con una marina questa e finalmente si giunge al 1866 con la presentazione al Salon del quadro più importante di quel periodo di Monet che sarà proprio il quadro che lo renderà famoso in tutta la Francia nonostante già comunque le sue marine precedenti erano state ben apprezzate ben accolte dalla critica ma il quadro in questione sarà Dama con il vestito verde spoiler è un ritratto di Camille e chi è Camille? Camille è la donna che nel 1870 diventa la moglie di Monet perché si aveva anche una vita privata nonostante tutto e ovviamente Camille era l'ennesimo motivo per cui i suoi genitori lo disapprovavano perché lei era semplicemente una modella una modella che gli aveva dato anche un figlio prima del matrimonio era tutto sbagliato secondo loro e quel dipinto di Camille in realtà era talmente tanto bello che cambiò tutto nella vita di Monet su questo dipinto ci sono tantissime serie a riguardo e più tardi vi leggerò anche un un estratto di una dichiarazione di Emile Zola su questo dipinto ma c'è anche un aneddoto divertente su questo dipinto che è quello che ci interessa infatti dovete sapere che a quel salon era presente anche Manet e non so quanti di noi hanno spesso sbagliato a identificare Manet e Monet con un nome così simile preparatevi perché avete già capito cosa succede durante la serata del salon nel 1866 Edward Manet che è stato uno degli artisti più pieni di sé cioè più che pieni di sé era comunque un po' un tipo solitario un tipo che non voleva farsi accomunare agli altri infatti è stato lui viene studiato nel periodo impressionista ma non viene mai associato all'impressionismo perché lui non vorrà mai essere associato all'impressionismo lui sarà sempre un lupo che va da solo quella sera Manet praticamente riceve i complimenti di chiunque elogi applausi cioè lui è lì a farsi ringalluzzire l'ego da tutti questi complimenti e voi ve lo dovete immaginare una persona così piena di sé che viene riempita da tutti questi complimenti inizi a sentirsi ancora più no tutto ringalluzzito e immaginate che faccia deve aver fatto questo povero stronzo quando viene a scoprire che i complimenti che si stava beccando erano tutti per la dama in abito verde di Manet questa cosa lui se la prende talmente tanto a male che anche se di base Manet non c'entrava nulla con questo equivoco lui se la segna cioè questo non gli parla non so per quanto tempo o meglio lo so per quanto tempo non gli parla per circa tre anni anche quando gli dicono ah ma lo vuoi conoscere Manet no io non voglio conoscere questo qui si rifiuta categoricamente finché una sera di tre anni dopo non si ritrovano nello stesso bar in sostanza immaginatevela questa scena però perché non è che in questo caffè c'erano soltanto Manet c'era Manet accompagnato da Basile da Sisley e da Renoir e poi c'era Manet con Cézanne con Degas con Imi Zola con Duranty cioè ragazzi c'era il mondo sono quelle cose che ti dicono che quando ti dicono se tu potessi viaggiare nel tempo dove andresti cosa faresti cioè se potessi io vorrei essere anche solo la cameriera che pulisce il tavolo in quel momento ragazzi c'è la storia dell'arte la storia della cultura e della letteratura tutta concentrata in un punto senza che loro ne fossero minimamente consapevoli wow quel giorno loro scambiano quattro chiacchiere e iniziano così un'amicizia un'amicizia profonda e non dovete aspettarvi che le loro non dovete immaginare le loro conversazioni come appunto gente che si che si dà ragione su tutto no quelli si scornavano c'erano queste tavolate di personaggioni che si scontravano si confrontavano poi si separavano tornavano a riflettere su quello che l'altro aveva detto ci ragionavano e crescevano cioè era una cosa un continuo alimentarsi e voi considerate che dopo il sonno del 66 Monet attraverserà quella fase della sua vita in cui punterà a trovare il suo vero io che poi sfocerà nella nascita dell'impressionismo ovviamente lui ancora non lo sa però in quegli anni lui praticamente inizia a dipingere in questo nuovo modo che ancora è un abbozzo di quello che sarà il Monet che conosciamo noi e che allo stesso tempo è criticato cioè Monet a un certo punto mentre dipinge le donne nel giardino e tutti questi altri dipinti meravigliosi di quegli anni è completamente solo le gallerie non lo vogliono più i critici non fanno altro che sparlare la sua pittura quindi si ritrova anche in difficoltà economiche consistenti e per fortuna ha degli amici cari che nonostante ancora non riescano a capire quello che lui sta combinando pittoricamente parlando tipo Courbet lo aiutano economicamente e soprattutto Manet lo aiuta e la cosa bella di Manet era che proprio per questo suo carattere tutto da signore oscuro lui addirittura in gran segreto organizza una raccolta fondi per poter comprare tutta una serie di dipinti a Monet che stava che stava praticamente con le pezze a patto che lui non sapesse mai che gliele aveva comprate lui cosa che comunque anche qua senza saperlo Monet ricambierà in favore quando per via delle sue scelte politiche della sua pittura la pittura di Manet con cui accennavo anche nell'ultimo video si ritroverà anche lui da solo e sarà Monet uno di quelli che andranno a fare la raccolta fondi e si batterà affinché il Louvre comprasse l'Olimpia in particolare di Manet per poterlo portare lì e dare lustro alla sua pittura che veniva in tutti i modi ostacolata e nonostante tutto nonostante tutte le critiche Monet continuava continuava anche quando pensava di non essere in grado perché questo scrive di sé Monet in quegli anni quella cosa che vi ho letto all'inizio del video è una cosa che lui ha realmente scritto in quegli anni lui ha continuato nonostante i critici lo distruggessero continuamente lui ha continuato nonostante non avesse un soldo lui ha continuato anche quando l'unica cosa che poteva fare era dipingere en plein air perché lui stava inventando l'en plein air in quel momento e il vento e la pioggia gli distruggeva le tele in un momento in cui non si poteva neanche permettere di ricomprarle continuava lo stesso e non si fermava nonostante la pioggia che gli arrivava addosso gli stesse facendo venire tutti i problemi reumatici del mondo niente poteva fermarlo e più la vita da pittore diventava difficile più tutto sembrava ostacolarlo più lui si tembrava e con lui anche gli altri impressionisti e anche se niente li fermava arrivò la guerra e nel 70 Camille e Claude si trasferiscono insieme al loro figlio a Londra ma era un periodo difficile per tutti infatti fortuna volle che a Londra Claude incontri Pissarro il suo amico che in sostanza si trova anche lui lì e si trova anche lui in grande difficoltà grazie a Pissarro lui riesce a incontrare D'Aubigny che aveva già mostrato un grande interesse per il lavoro di Monet e lui farà quello che sarà il passaggio decisivo nella carriera non solo di Monet ma di tutti gli impressionisti che palle la gente che passa per strada e lo mette in contatto con Duran Ruel il suo gallerista che farà la vera differenza per gli impressionisti un'altra differenza da fece il fatto che a furia di essere rifiutati lui Renoir e tutti quelli che sono passati la storia come gli impressionisti arrivarono a un punto limite e decisero di fregarsene e di staccarsi da quella pittura che in fondo non sentivano gli appartenesse e nel 1873 fondano la Société Annonime Cooperative di Pinteurs Sculpteurs e Graveurs di Francia cioè un'associazione di artisti indipendenti che fanno le loro mostre e che sono indipendenti e questo diciamo fa una grande svolta nel complesso per gli impressionisti perché finalmente diventano un vero e proprio gruppo che può organizzare delle mostre e che ha effettivamente dei compratori ovviamente sono gli anni della guerra ovviamente sono anni difficili nel 79 Monet perderà Camille Monet si sposerà due volte nella sua vita ed entrambe le volte rimarrà vedo e la perdita di Camille che è stata sua oltre sua moglie è stata sua modella per tantissimi quadri lo lo turberà molto dopo la morte di Camille i paesaggi di Monet diventano freddi lui spesso d'inverno dipinge la neve non soltanto per un semplice il semplice fatto che lui dipingeva appunto un planere quindi c'era la neve no non è stato soltanto questo lui in una lettera un amico racconta del momento in cui muore Camille e di come il suo corpo così morente lo turbasse perché allo stesso tempo lui la guardava anche con gli occhi del pittore e essendo quello il suo modo di affrontare le cose desiderava anche in quel momento dipingerla e proprio gli dice quasi tipo ripudiami amico mio per questa cosa nel senso era consapevole del fatto che era una cosa macabra oggettivamente ma allo stesso tempo fa tenerezza pensare che quello fosse il suo modo di legare le cose a sé dipingerle no e anche in quel momento e in momenti in generale così umanamente intensi ti rendi conto di che cos'è essere un pittore nel tempo Monet studierà ossessivamente la luce perché la luce è il vero soggetto dei suoi dipinti non vi parlerò singolarmente dei dipinti perché non ce ne frega niente ma vi dirò che cos'è quello che lui faceva lui è rimasto impressionato sin dall'Africa dall'impressione dal tocco della luce sulla superficie e della luce in generale tutti i soggetti di Monet fondamentalmente sono la luce che colpisce le cose anche quando lui sarà a Venezia e si ritroverà davanti al palazzo ducale vedrà questo enorme palazzo che lui dipingerà tra l'altro lui la descrive lui descrive Venezia come impressione su pietra quel palazzo come palazzo cioè quel palazzo come impressione su pietra e per lui Venezia fu una grandissima ispirazione perché là l'acqua era ovunque la passione che Monet aveva per la pittura rimane costante e la passione che Monet aveva per ciò che dipingeva rimane sempre quel sentimento traballante del primo amore cioè lui vivrà sempre la pittura come il suo primo amore perché anche se lui continuerà ad affermarsi se diventerà uno dei più grandi pittori di Francia e questa cosa tra l'altro gli causerà anche problemi con gli altri impressionisti con cui dopo un periodo poi si distaccherà perché loro ritenevano che Monet non facesse più l'interesse del gruppo ma soltanto di se stesso in realtà lui era totalmente ossessionato dalla ricerca della pittura e non si è sentito mai all'altezza realmente se voi leggeste e vi auguro di farlo gli scritti personali di Monet sulla sua pittura di quegli anni nonostante stiamo parlando degli anni in cui lui fa i suoi capolavori più grandi lui non fa altro che dire io non sono soddisfatto io produco cose che odio l'altro giorno distrutto tutta una serie di dipinti con grande soddisfazione la sua ossessione per le ombre per le luci la cattedrale di Lurena ripetuta all'infinito dove dovete immaginare lui che la dipinge e dice ma ha fatto un sacco di versioni ma lui le dipingeva tutte insieme lui ci metteva tutte queste tele una accanto all'altra e dipingeva velocissimamente da una parte e dall'altra perché era completamente ossessionato dal movimento della luce sulle superfici e con la stessa procedura lui dipingeva le ninfee lui ha fatto decine e decine e decine di ninfee così tante tele una accanto all'altra per ricercare aspettava il momento giusto in cui la luce colpiva nell'esatto modo in cui l'aveva già colpito quella parte del lago quindi poi si spostava da una tela all'altra freneticamente era qualcosa ragazzi che non si può spiegare e i suoi contemporanei che vedevano le sue tele nel momento in cui venivano dipinte mentre lo vedevano dipingere dicevano che vedere le tele di Monet a volte se tu le vedevi tutte insieme specialmente quelle appunto dipinte in serie avevi l'impressione di vedere qualcosa dipinto da Dio nel senso che vedevi che non era una semplice pittura la sua non era semplicemente che lui dipingeva per lui la pittura era tutto era qualsiasi cosa e ci sono dei passaggi nella vita di Monet e qua inizio a stringere perché mi rendo conto che questo video sta durando un'infinità che sono veramente tragici da questo punto di vista perché Monet a un certo punto della sua vita si ammala gravemente alla vista viene operato di cataratta anche quindi non si capisce se questa malattia fosse soltanto tra milioni di virgolette soltanto cataratta fosse qualcosa di più ma ci sono dei passaggi che io ci tengo a leggervi in cui lui racconta questa cosa che vi fa capire quanto lui si sentisse perso senza la pittura preparatevi perché se siete emotivi non sarà semplice nel 1913 quando Monet dipingeva questo scrive sono sempre più disgustato da ciò che ho fatto ho sempre voluto credere che sarei progressivamente giunto a essere soddisfatto e a fare finalmente qualcosa di buono ahimè su questa speranza posso metterci una croce nulla più mi dà gusto della mia vista non oso dire nulla in alcuni momenti mi sembra che vada meglio subito dopo il contrario nel 1918 scrive ho dipinto un'infinità di ninfee cambiando sempre punto d'osservazione modificandole a seconda delle stagioni e adattandole a diversi effetti di luce che il loro mutare crea e l'effetto cambia incessantemente non soltanto da una stagione all'altra ma anche da un istante all'altro l'elemento base è lo specchio d'acqua il cui aspetto muta ogni istante per come sprazzi di cielo vi si riflettono conferendogli vita e movimento per ricavare qualcosa da questo continuo mutare bisogna avere cinque o sei tele sulle quali lavorare contemporaneamente e bisogna spostarsi dall'una all'altra tornando rapidamente alla prima non appena l'effetto interrotto riappare i colori non avevano più la stessa intensità per me non dipingevo più gli effetti di luce con la stessa precisione le tonalità del rosso cominciavano a sembrare fangose i rosa diventavano sempre più pallidi e non riuscivo più assolutamente a cogliere i toni intermedi e quelli più profondi le forme quelle riuscivo ancora a vederle con immutata chiarezza e a disegnarle con immutata precisione se ho riconquistato il mio senso del colore è perché ho adottato i miei metodi di lavoro alla mia vista è perché quasi sempre ho buttato i colori a caso da un lato fidandomi delle etichette sui tubetti e dall'altro seguendo la forza dell'abitudine facendo affidamento sul modo in cui ho sempre steso le tinte sulla mia tavolozza tra il 1921 e il 1922 scrisse lavoro accanitamente e vorrei dipingere tutto prima di non vederci più la perdita della vista per Monet sarà determinante perché lo porterà a una profonda depressione da cui praticamente non si riprenderà perché comunque lui di lì a pochi anni sarebbe morto nel 1923 fece un ultimo intervento che gli ridiede parzialmente la vista ma parzialmente immaginate che per il nostro Claude non era abbastanza ci sono momenti della vita di Monet nella parte proprio finale della sua vita in cui lui si isolerà completamente e passerà dei periodi di disperazione totale perché ogni cosa che crea è convinto che sia un disastro e brucerà non sapete quante tele di Monet abbiamo perso perché lui disperato non riusciva neanche a concepire il fatto che esistessero quelle tele che per lui erano terribili vorrei concludere questo video su quest'autore con il discorso di cui vi parlavo all'inizio di Emile Zola che lo riguarda sono delle cose che lui ha detto tra il 1866 e il 1868 su Monet nel 66 lui ancora non aveva conosciuto Monet se vi ricordate si incontreranno tramite Manet quando i due Monet e Manet chiariranno l'equivoco di Camille in abito verde e nel 68 invece sarà già l'anno in cui Monet era fortemente criticato per le sue scelte che poi lo porteranno in realtà all'impressionismo così dice Emile Zola confesso che il dipinto che ha catturato più a lungo la mia attenzione è Camille in abito verde di Monet finalmente una tela viva e piena di energia avevo appena finito di girare per quelle sale fredde e vuote stufo e stanco per non aver trovato nessun nuovo talento quando mi balzò agli occhi questa giovane donna col vestito dal lungo strascico infilato nel muro come se ci fosse un buco non potete immaginare che sollievo sia poter ammirare qualcosa quando sei stanco di ridere a crepapelle o di scrollare alle spalle non conosco Monsieur Monet non credo neppure di aver mai visto una sua tela prima tuttavia mi sento quasi come un suo vecchio amico e questo perché la sua pittura ricurgita di energia e di verità davvero qui c'è qualcosa che ha del bel temperamento c'è un uomo tra tutti questi eunuchi guardate i quadri accanto e vedrete quanto restino mortificati da questa finestra spalancata direttamente sulla natura qui c'è più di un realista c'è qualcuno che sa interpretare ogni dettaglio con delicatezza e con forza ma senza cedere nel tedio notate l'abito come morbido come solido strascica dolcemente è vivo dichiara a viva voce chi è questa donna non è un semplice vestito da bambola non uno di quegli abiti di mussola per vestire un sogno questa è seta pura come nuova troppo pesante per quei bignè alla crema di Monsieur Dubuffet e ancora avanti dice nel 68 ho visto di Claude Monet delle tele originali che sono la sua carne e il suo sangue l'anno scorso gli hanno rifiutato un quadro di figure donne in chiari abiti estivi che raccolgono fiori nei viali di un giardino il sole cade a picco sulle gonne di un bianco splendente la tiepida ombra di un albero diffonde sui viali e sugli abiti inondati di sole una grande macchia grigia effetto stranissimo bisogna amare molto il proprio tempo per usare una simile prova di abilità stoffe divise in due dall'ombra e dal sole donne eleganti in una iuola che il rastrello di un giardiniere ha accuratamente pettinato è certo che ammirerei assai meno queste opere se Claude Monet non fosse un vero pittore ho solo voluto sottolineare la simpatia che lo spinge verso i soggetti moderni ma se approvo la sua ricerca di punti di vista nell'ambiente in cui vive mi congratulo ancora di più con lui perché sa dipingere perché ha un occhio preciso e sincero perché appartiene alla grande scuola dei naturalisti ciò che distingue il suo talento è un'incredibile facilità di esecuzione un'intelligenza duttile un intendimento rapido e vivace di qualsiasi soggetto non mi preoccupo per lui egli domerà alla folla quando lo vorrà coloro che sorridono davanti alle asprezze volute della sua marina di quest'anno dovrebbero ricordarsi di sua moglie in abito verde nel 1866 quando si può dipingere in tal modo una soffa si è completamente padroni del proprio mestiere si sono assimilate tutte le nuove maniere si fa ciò che si vuole da lui mi aspetto solo del buono del giusto e del vero è giunto quel momento ragazzi il momento in cui io vi invito a iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto e attivare la campanellina delle notifiche per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti il momento in cui vi chiedo un like o un commento di supporto per aiutarmi a far crescere il canale è il momento in cui vi chiedo di farmi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto se questo genere di video vi piace se ne volete vedere altri in futuro su altri autori per me è stato un onore parlarvi di Monsieur Monet farvi conoscere Claude e spero che la sua storia vedere come un grandissimo artista abbia passato le stesse incertezze tutta la vita che passiamo noi quindi anche se era già affermato anche se era bravissimo anche se era Mone credere di non aver fatto abbastanza credere di non essere abbastanza bravo e di non fare niente di buono possa esservi l'ispirazione per dire non non devo mollare perché se Monet avesse mollato noi non conosceremmo oggi uno degli autori più straordinari di ogni tempo se Renoir avesse mollato non conosceremmo le opere di un artista straordinario se Basile non avesse cambiato la sua vita entrando nel Louvre non avremmo avuto niente e quindi chi lo sa se magari in realtà il mondo non sta aspettando anche te con le cose straordinarie che devi fare pensaci io nel frattempo ti saluto ti mando un grosso bacio e ci rivediamo presto nel prossimo video ciao